Allora, 7.55, buongiorno, benvenuti al dibattito di Omnibus, campagna elettorale per le amministrative. Siamo alla stretta finale, si vota domenica e lunedì, poi lunedì pomeriggio, nel primo pomeriggio. Conosceremo subito i risultati perché sono dei ballottaggi, quindi è sempre un testa a testa, i conti sono molto facili, i commenti politici arriveranno già da metà pomeriggio. In un voto che si annuncia fondamentale per il procedere della legislatura, anche se qualche d'uno dice che potrebbero esserci dei colpi di scena politici nelle prossime ore. L'ho scritto oggi un quotidiano, la stampa, che afferma che il Presidente del Consiglio potrebbe tirar fuori questa sera in un nuovo intervento televisivo, chissà se provocherà qualche polemica, pare a porta a porta, stasera potrebbe andare Berlusconi e annunciare un piano per il Sud e un fisco più leggero, compatibile con i conti italiani. Ma forse vedremo e sentiremo soprattutto che ci dirà il Presidente del Consiglio, anche se ieri c'è stato qualche altro colpo di scena, la famosa vicenda del trasferimento dei ministeri al Nord, sembra che sia stata congelata, se ne riparlerà più ampiamente dopo i ballottaggi, e torna a spuntare invece un'altra notizia, che è quella di una riflessione sulla legge elettorale. Forse comunque vada il voto di domenica. Vi presento subito i nostri ospiti. Fabio Martini della Stampa, buongiorno e bentornato. Bentornato anche a Massimo Garavaglia, che è senatore della Lega Nord. Buongiorno. Buongiorno a Paolo Gentiloni, deputato del Partito Democratico. Buongiorno a Massimo Corsaro, vicepresidente vicario dei deputati del Popolo della Libertà. Buongiorno a voi. E buongiorno a Ferdinando Adornato, parlamentare dell'Unione di Centro. Buongiorno. Allora, senta Garavaglia, sembrava, subito dopo il ballottaggio, alcuni esponenti della Lega avevano detto che c'era una carta a sorpresa che doveva uscire dal cilindro di Bossi e Berlusconi, che avrebbe cambiato le sorti dei ballottaggi, o almeno avrebbe cambiato la sorta del ballottaggio a Milano. Sembrava che questa carta fosse quella dello spostamento dei ministeri. Ieri sera incontro Bossi e Berlusconi, se ne riparla dopo i ballottaggi. Quindi l'arma finale non ha funzionato o cos'altro? Dopo i ballottaggi è lunedì, quindi sono due giorni. Ebbè va bene, però se era l'arma per i ballottaggi... Non è questa l'arma finale. Questo è un disegno che è lungo. Già nel programma del 94 di Forza Italia c'era l'idea di capitale reticolare. Per quanto ci riguarda è una questione di carattere simbolico molto importante perché significa che dopo l'attuazione del federalismo, iniziato nel 2001, completato a Costituzione vigente con il federalismo fiscale, significa simbolicamente la fine del centralismo e finalmente l'istituzione di un vero assetto federale. E simbolicamente secondo voi poteva cambiare le sorti della corsa per Milano? Ma non è tanto una questione di Milano. Questa è una questione più generale. Infatti è poco legata a Milano in quanto tale, anche perché Milano non vive sicuramente di lavoro pubblico. Infatti capiamo anche tante ritrosie di Roma perché Roma effettivamente invece ha una prevalenza di lavoro pubblico e togliere anche un posto fa venire subito il Cimuro. Per cui è un atto simbolico molto importante, visto che questa campagna elettorale di Tony Aspri ne ha già avuti tanti, vabbè ne riparliamo lunedì e non muore nessuno. Quello che è sicuramente più importante per noi è proseguire sull'azione riformatrice, in particolare l'aspetto fiscale è veramente importante per le nostre imprese e devo dire già nel decreto sviluppo ci sono tante cose decisamente interessanti. Ne cito una per citarne una, l'elevazione della contabilità semplificata a 700 mila euro. Vuol dire far pagare la gestione della contabilità fino al 30% in meno a migliaia di aziende. Ecco, noi vorremmo fare tante piccole e grandi cose come queste. Adornato, allora, sembra che dal cilindro di Berlusconi stasera potrebbero uscire novità o almeno così pare, non sarà più la priorità, dice Magri oggi sulla stampa, uno dei colleghi di Fabio Martini, dice Magri oggi sulla stampa, che Berlusconi farebbe scalare fra le priorità del governo la giustizia, i problemi ad essa connessi, la riforma e poi tutto il cotè di altre vicende che in qualche maniera lo coinvolgono al secondo posto rispetto alle priorità e darebbe una sferzata di vitalità al governo annunciando piano per il sud e fisco più leggero. Le pare possibile con questi, come dire, chiari di luna? Per la verità non c'è bisogno di aspettare porta a porta di stasera, basta prendere un porta a porta di 15 anni fa per vedere l'annuncio del fisco più leggero, della riforma fiscale e il piano per il sud forse non di 15 ma di 7-8 anni fa. Quindi Vespa potrebbe tranquillamente mandare in onda la registrazione di quelle puntate. Il problema è che l'Italia non è più, forse non lo doveva mai essere, però diciamo, limitiamoci a essere più minimalisti, l'Italia non è più in grado di sopportare la politica degli annunci o battaglie simboliche come quella dei ministeri al nord, al sud, al centro. Guardiamo la realtà, se vogliamo fare un discorso serio e non di propaganda e quindi di accuse reciproche. La realtà è quella che l'Istat ha fotografato due o tre giorni fa, del dramma dei giovani, della caduta del risparmio delle famiglie, di un italiano su quattro che sperimenta situazioni di povertà. Poi c'è la Corte dei Conti di ieri che ci ha detto quanto ci costa il debito pubblico e che, a suo dire, ci sarebbe bisogno ogni anno per i prossimi 4-5 anni di una manovra da 46 miliardi. Abbiamo questi licenziamenti della Fincantieri e io voglio dire che comincia a pagarsi, se qualcuno si ricorda, si diceva no, l'Italia è indenne dalla crisi, in qualche misura l'Italia ha lavorato bene dentro la crisi, il debito pubblico è stato contenuto e questo va dato atto al Ministro Tremonti, ma non si capisce perché il Ministro Tremonti stesso si ostina a dire, a vedere in antagonismo la tenuta del debito pubblico e la crescita. Cioè, o si tiene il debito pubblico o si prendono misure per la crescita. Tutti noi capiamo che si tratta di una questione difficile, ma se non riusciamo ad affrontare le due cose insieme, l'Italia non ce la fa. E a quegli operai voglio anche dire che con le violenze e col vandalismo non si va da nessuna parte, il loro dramma deve essere fatto proprio da tutta la classe dirigente e noi vogliamo farlo nostro. Però con le violenze e il vandalismo non si ottiene nulla. E dobbiamo stare attenti perché questo può essere un campanello d'allarme di situazioni di disagio sociale che possono diventare esplosive. Allora, il quadro è questo. Vogliamo fare un discorso serio? Noi abbiamo cercato di farlo da mesi. Quale forza politica o quale maggioranza? Facciamo conto anche alla maggioranza più larga che non sia ferita, divisa, capricciosa come quella che adesso governa il paese. Mettiamo che sia una maggioranza cohe, ma non ce la fa neanche quel tipo di maggioranza oggi. E quale partito può dire, arrivo io, che pensi mi, c'ho la bacchetta magica? Quale uomo può dirlo? Uno lo fa, ma sbaglia. Allora, ci vuole che tutti insieme, ecco perché il governo di responsabilità nazionale noi l'abbiamo indicato mesi fa e continueremo a indicarlo anche nelle elezioni politiche. Non è un esercizio di virtuosismo, non è che a noi ci piaccia essere buoni o vedere l'ambrassonnu di tutti. Il problema è che non c'è altra soluzione se non mettersi insieme e dire punto a capo dal punto di vista economico-sociale, con misure che richiedono il consenso di tutti, punto a capo dal punto di vista istituzionale, poi ci torneremo nei prossimi interventi, con la modifica della legge elettorale e anche dell'assetto istituzionale del paese, cominciando a fare non gli annunci, che non so se stasera verranno ripetuti, ma le riforme che tutti vogliamo, ma chi sta al governo, destra o sinistra che siano, non riescono a fare. Martini, il voto di domenica e lunedì è un altro 14 dicembre per il governo? Il 14 dicembre, lo ricordo a chi ci ascolta, fu la famosa mozione di sfiducia al governo, governo che uscì indenne, superando le mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni. È un altro 14 dicembre per il governo questo? Bella domanda. Forse c'è una differenza, quella volta se il governo avesse perso, Berlusconi sarebbe definitivamente caduto in quelle stesse ore. Non è detto che una rovinosa sconfitta a Milano e anche a Napoli possa determinare un'uscita immediata dal governo di Berlusconi. A decidere sarà la Lega. In queste ore assistiamo ad un nervosismo senza precedenti da parte della Lega. possiamo ricondurlo a quello di 17 anni fa, che poi portò alla crisi di governo e alle elezioni nel giro di un anno e mezzo. Sarà la Lega e da quello che sappiamo, da quello che trapela, perché il mondo della Lega è sempre, come dire, inavvicinabile o comunque le voci sono sempre difficilmente verificabili, quel che si capisce è che questa volta ci sarà una soluzione di continuità. la Lega imporrà un chiarimento importante, plateale, proverà a dare una missione alla legislatura, una missione però palpabile, perché nessuno lo ha notato, ma il federalismo, la conquista del federalismo non ha portato neanche un voto. Allora Gentiloni, Milano incerta e Napoli incertissima, è questo il senso del ballottaggio? Questo lo scopriremo vivendo, come si dice. Certamente il risultato di Milano è stato un risultato per certi versi clamoroso al primo turno, pensate che normalmente un sindaco che viene ricandidato per il secondo mandato vince in discesa. Cosa succede normalmente nelle città? Uno ce la fa al 50, 52, 53 al primo giro, al secondo giro se non ha funzionato non viene ricandidato, normalmente se viene ricandidato vince alla grande. In questo caso invece ci troviamo a un fatto che non ha molti precedenti nelle grandi città, in cui c'è un sindaco che nonostante 5 anni di grande esposizione mediatica che consente il fatto di fare il sindaco a Milano, nonostante la coalizione lo abbia ricandidato, perde 80 mila voti. Cosa sono 80 mila voti a Milano? A Milano votano 600-700 mila persone, quindi che 80 mila in meno votino rispetto a 5 anni prima è una bocciatura clamorosa. Io penso che lunedì il risultato riguarderà soprattutto questo, perché poi è evidente che noi discutiamo di mille implicazioni politiche e ci saranno, lo capisce anche un bambino, mille implicazioni politiche nazionali. Però la cosa fondamentale per la quale i milanesi andranno a votare di nuovo domenica e lunedì è innanzitutto la guida della città di Milano, una città che è governata da una ventina d'anni dalla stessa coalizione, PDL più Lega, un caso del genere di una città governata dal centrodestra da tanto tempo in Italia, credo che in una grande città ci sia solo a Milano e che, come dice il risultato del primo turno, ha un bilancio assolutamente critico. Il bilancio critico non riguarda molte delle cose di cui ho sentito parlare, Berlusconi e alcuni leader del centrodestra in televisione in questi giorni, per cui appunto il trasferimento dei ministeri, promesse le più mirabolanti. Io mi auguro per Berlusconi che stasera non rifaccia porta a porta di nuovo un pezzo del genere, perché io penso che la gente cambia canale. Se si risente parlare di Piano del Sud per la quinta volta in questa legislatura o addirittura di riduzione delle tasse, che come ricordava prima Adornato era una delle promesse fatte in quel famoso programma di Vespa esattamente poco più di dieci anni fa. Il contratto con gli italiani. Sì, il contratto con gli italiani. Veramente la gente cambia canale a questo punto. Lì il sindaco e l'amministrazione fanno delle scelte su alcune cose fondamentali per i cittadini. Mi parla così tanto di Milano perché a Napoli la partita è più difficile per il centrosinistra. A Napoli è una partita certamente più difficile per il centrosinistra, perché non c'è dubbio che il Partito Democratico nel primo turno di queste elezioni aveva un candidato diverso da quello che è andato al ballottaggio, cioè il prefetto Morcone, un ottimo candidato. Dopodiché noi ragioniamo così. Gli elettori hanno scelto il magistrato De Magistris. Io ovviamente mi sono battuto invece a sostegno di Mario Morcone. Fatta questa scelta io mi auguro che De Magistris, che in questo momento rappresenta la coalizione di centrosinistra, vinca queste elezioni, anche se con De Magistris possa avere tanti punti di differenza su molte cose, ma a Napoli certamente il successo di De Magistris evita che quella città venga consegnata ad ambienti che purtroppo sono ambienti molto criticabili. Il tema a cui riportare la discussione, soprattutto in queste città, sono i temi che dipendono dai sindaci. Stiamo parlando del traffico, dell'inquinamento, della casa. L'amministrazione, la buona amministrazione. Cioè cose che per la vita dei cittadini sono fondamentali. Inutile che noi gli parliamo di trasferimenti di ministeri o di cose di questo genere. Stiamo al punto e stando al punto si capisce la bocciatura della giunta Moratti di questi cinque anni. Corsaro, allora lei è milanese e quindi può fare, può trarre anche lei un po' di... Sono l'unico che voterà domenica e lunedì, mi pare, questo tavolo. Credo di sì. Ah, questo tavolo. Questo tavolo. Questo tavolo, sì. Questa fosse una previsione. Quindi si recuperano sette punti, sono sette e mezzo circa, no, della Moratti. Voi siete ostentate naturalmente, è ovvio, voi si inseguite ma dovete ostentare ottimismo. Non sono pochi però sette punti e mezzo. No, allora, ostentare ottimismo partendo da un risultato del genere del primo turno che è certamente un risultato inatteso e insoddisfacente, lo dico per sgombrare il campo da ogni tatticismo, sarebbe oggettivamente folle. Siamo fiduciosi però. Siamo fiduciosi perché abbiamo fatto un'analisi, credo, approfondita del risultato di Milano. Milano è stato detto che sono mancati 80 mila voti, il che è vero, alle forze che complessivamente si riconoscono nel sostegno al Governo nazionale e al Governo cittadino. È successo che dall'altra parte il PD sostanzialmente ha ribadito il risultato che ha avuto lo scorso anno alle elezioni regionali quando la città di Milano si è espressa sulla candidatura di Roberto Formigoni a Presidente di Regione. è successo che, avendo per la prima volta da tanti anni un candidato della sinistra radicale, anche un elettorato che da tempo si era un po' disaffezionato alla partecipazione alla competizione elettorale, nella misura di 30-40 mila cittadini milanesi, è tornato a votare dando il proprio appoggio legittimo alle forze politiche che si riconoscono nella sinistra radicale che non sono in questa legislatura rappresentate in Parlamento. Abbiamo evidentemente fatto un'analisi e un'autocritica di quello che è stato il risultato, siamo convinti che il nostro elettorato che è mancato è un elettorato che è mancato perché ci ha voluto dare dei forti segnali, ci ha dato uno schiaffolo, abbiamo definito, che abbiamo ritenuto di comprendere nelle motivazioni e nelle pulsioni. Oggi si apre una seconda partita. Il ballottaggio non riparte da 48 a 41, il ballottaggio riparte da 0 a 0. Noi ci stiamo rivolgendo in particolare a quella fetta cospicua di cittadini milanesi che storicamente e tradizionalmente ha dato il suo appoggio al Popolo della Libertà e alla Lega, tornando, come diceva Gentiloni, a discutere sui temi dell'amministrazione. Ci siamo fatti un po' trascinare nel vortice della polemica nazionale, non abbiamo discusso della città, abbiamo probabilmente esagerato in alcuni toni e i cittadini ce l'hanno segnalato. Compresa la elezione, stiamo facendo una campagna elettorale che misura il tanto di buono che a nostro avviso è stato fatto dall'amministrazione Moratti in questi cinque anni a Milano e stiamo segnalando al nostro elettorato stanco che ha deciso di non andare a votare al primo turno quella che potrebbe essere la Milano di domani se malauratamente vincesse il candidato. Glielo chiedo in termini espliciti. Lunedì pomeriggio alle 15.30 quando ci saranno i primi exit poll o quello che saranno si avrà una sensazione di quello che potrà accadere. Perdendo Milano e Napoli il governo è a rischio? Guardi io non credo che il governo sia a rischio per un motivo anche qui esclusivamente numerico, al di là delle questioni politiche, non c'è una classe politica o una collocazione politica o una colorazione politica esistente attualmente in Parlamento che vince queste elezioni. Centrodestra certamente ha arretrato, ha misurato una battuta d'arresto in particolare a Milano, in particolare a Milano perché altrove non è andata sempre così. Dall'altra parte il PD ha perso quasi 5 politici. No, glielo chiedo perché era Berlusconi che aveva parlato prima del voto di un referendum No, no, non c'è dubbio, ma vede, per generare un avvicendamento al governo nazionale non basta che si perda un turno elettorale amministrativo, c'è bisogno della capacità di costruire un'alternativa. Ci sono dei dati curiosi. Noi andiamo indietro, mentre noi andiamo indietro non sale il principale partito di opposizione che è il Partito Democratico, perde quasi il 50% dei voti. Scusa la terza volta che lo ripete, ma non è così. Poi parliamo dei numeri quando vuoi. Poi parliamo dei numeri. Si potrebbe dire che non è rileva. Concludo, non sale il Partito Democratico, dimezza l'Italia dei Valori e faccio il caso specifico di Milano. Mentre PDL e Lega da un anno all'altro perdono nella città di Milano l'11%, non si percepisce traccia del cosiddetto terzo polo. Cioè quando ci sono le condizioni di migliori perché il terzo polo possa prendere i voti. No, 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 ho la pubblicità, la faccio intervenire subito dopo. Dopo la pubblicità. Allora Gentiloni, io l'ho interrotta. Lei voleva contestare qualche numero che aveva fatto un attimo fa Forsaro rispetto ai risultati del PD nel turno amministrativo e nello specifico a Milano, mi pare di capire. Sì, ma non voglio far polemiche sui numeri. A Milano certamente il PD ha avuto una grande affermazione, gli mancano pochissimi voti per essere il primo partito. Fino alla fine dello spoglio non era chiaro se il primo partito a Milano era il PD o il PDL, poi alla fine per uno zero virgola il PDL è un'incollatura, come si dice, sopra il PD. Quindi il PD ha avuto sicuramente un ottimo risultato. Che vuol dire che per noi poi il meccanismo delle primarie funziona. Quando le primarie individuano un candidato, in questo caso è stato l'avvocato Pisapia, che non era del Partito Democratico, poi chi vince le primarie per il PD viene in un certo senso adottato, diventa il nostro candidato. Tanto è vero che il PD ha avuto un ottimo risultato in quella città. E sento che giustamente nel PDL si comincia a parlare dei primarie e non mi sembra una cosa insignificante. No, invece, semmai volevo... E come voi ben sapete sono roba insidiosa. A volte non vincono... Sono insidiosa. Insidiosa nel senso democratico. Si potrebbe dire che è la democrazia bellezza per riprendere le vecchie battute. No, dicevo, invece, mi allarma un'idea che sentivo, per la quale... Vabbè, il risultato di lunedì, alla fine, sì... Derubricato a... Magari perdiamo Milano, magari il centrotesta oltre a Milano perde anche Napoli, magari perde anche Gagliari e Trieste, ma comunque c'è una inversione di tendenza, non so dove, c'è una situazione complessa, non si capisce... Il sostanziale pareggio di Verdini. Ha vinto a chi ha perso il sostanziale, il mitico sostanziale pareggio. Ora, io dico, non scherziamo, addirittura il primo turno è stato un terremoto. La sconfitta anche soltanto a Milano, beh, segna una svolta per la politica nazionale. Perché noi ci troviamo, non lo dimentichiamo, in un contesto in cui è vero che il governo il 14 dicembre ha vinto quella battaglia parlamentare e si è dedicato, il Presidente del Consiglio, nei mesi successivi a cercare di tenere insieme una maggioranza. Però non mi pare che siamo in una situazione, diciamo così, con un governo che gode buona salute. Rispetto ai problemi drammatici che ha questo Paese, che certo nessuno risolve così con con un colpo d'ala, ma che andrebbero almeno affrontati. Noi abbiamo un governo che si occupa, diciamo così, di sminare un campo minato per la sua sopravvivenza. L'ultima di queste ore è evitare il referendum. E quindi il Parlamento si mobilita, si fa un decreto. Di che cosa si discute? Evitare il referendum. Prima si era discusso di qualche norma ad personam, prima ancora c'era stato l'ingaggio di parlamentari per tenerlo insieme. La sensazione quindi è di un governo molto fragile e del tutto inadeguato rispetto a questa situazione in cui forse la crisi è nel suo periodo, stiamo avviando un periodo di ripresa, ma le conseguenze sociali della crisi sono ancora pesantissime. altri paesi europei si stanno riprendendo più veloci di noi. Noi abbiamo un governo così paralizzato. Potete immaginare se su questa situazione di paralisi piomba il terremoto di una sconfitta del centro-destra a Milano che regge questa coalizione? Io non lo posso credere perché credo che tutti abbiano rispetto per il pronunciamento dei cittadini. Perché sei ottimista, non lo puoi credere. Lì si decide il sindaco, non c'è dubbio, ma nessuno credo possa non vedere che le conseguenze politiche sarebbero assolutamente determinanti. Allora, sentiamo Caravaglia, conseguenze politiche determinanti in caso di sconfitta di Milano, la Lega che naturalmente è attentissima a tutto, che ha giocato una partita fondamentale in questa amministrativa. Ha giocato forte, ha scommesso forte, il primo turno non è andato molto bene. Neanche a voi. Bisogna fare un quadro generale. No, 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 però, come dire, non è analisi mia, è analisi abbastanza comune, tant'è che voi, tant'è che, come dire, date molto significato anche a questo secondo turno. Se lunedì alle 15 e qualche minuto ci fosse anche la sconfitta di Milano, ci sarebbero conseguenze per il governo? Beh, innanzitutto noi diamo molta importanza al secondo turno perché abbiamo aperto un sacco di partite. Teniamo conto che la Lega ha guadagnato un numero di sindaci, che per noi è la cosa più importante. Rispetto alle scorse comunali, ma non rispetto alle regionali. Essendo amministrative, da noi conta questa cosa. Qui poi c'è il quadro politico e un'altra cosa, però nelle amministrative conta prendere più sindaci, noi abbiamo preso più sindaci. Abbiamo partite del ballottaggio interessantissime. Penso a Ro, che è la città dell'Expo, il nostro candidato contro il PD, ma a Mantua, a Pavia, insomma, i ballottaggi delle province, insomma, ci sono tante partite ancora aperte che pensiamo... E qualche amarezza come a Gallarate, per dire. Beh, quello ci sta, quello ci sta. Per poco, però, per poco. Però qui solo i primi due, tutti gli altri, purtroppo, sono le elezioni. Va bene, va bene. Quindi, però, superiamo Gallarate e Ro. Il quadro politico, quindi, al di là del fatto che per la Lega non sia andato male, come si dice, perché invece è andato abbastanza bene, il quadro politico è sicuramente complicato, perché qui noi ci troviamo di fronte a una situazione che ci preoccupa, e mi spiego in un minuto. Alla fine, a parte noi che abbiamo sostanzialmente tenuto e guadagnato in alcune posizioni, come abbiamo detto, perdono i partiti maggiori, il PD ha candidati di vendola a Milano e a Cagliari, a Napoli ha il candidato, anzi, il candidato dell'IDV che non vorrebbe di Pietro, quindi è un gran cinema anche a Napoli, guadagna a vendola. Cos'è il problema per noi in prospettiva? Scusi, mi faccio fare l'amico del diavolo in questo caso, però arrivano tutti ai ballottaggi, non saranno i candidati del PD, ma sono sufficientemente forti per arrivare ai ballottaggi. Contenti loro che vincono i candidati degli altri. Si diventina sempre che il sindaco di Torino e il sindaco di Bologna, che sono stati eletti una settimana fa, sembra che fossero dei passanti. Scusami, facciamo una domanda sul quadro politico, che va al di là dell'amministrativa, perché sull'amministrativa deve andare a singoli... Il fatto, noi ci preoccupa, nell'ottica di crisi che stiamo vivendo, il fatto che, se guadagni, vendola. Perché ci preoccupa? Le faccio tre esempi terra a terra. Noi abbiamo bisogno di attrarre investimenti esteri, abbiamo bisogno di competitività. Ok, cosa fa a vendola? Rigassificatore Puglia. Però lei mi dica di Milano e il quadro nazionale, non si preoccupi se vendola cresce giustamente, però... Se guadagna, se guadagna, in questo quadro di crisi, se guadagna il partito del no alle infrastrutture, il rigassificatore di Brindisi, la TAV, come pensiamo di recuperare competitività? Non sono sicuramente queste forze che possono dare competitività al sistema Paese, perché sono quelle che remano contro. Quindi la nostra è una preoccupazione in prospettiva. Per quello che chiediamo al governo, adesso c'è il balottaggio, da lunedì pancia a terra su riforme, competitività e fisco, perché altrimenti dalla crisi non ne usciamo. Il problema è questo. Se invece si liscia il pelo alle forze del no, alle forze che raccontano il consenso facile, però poi in prospettiva non possono creare sviluppo, andiamo contro a rischi seri. Perché noi vediamo com'è messa adesso la Grecia dopo i declassamenti. In Grecia sono arrivati al punto di tagliare le pensioni, licenziare i pubblici, certo, ma di vendere i porti. Ora, noi diciamo che si arriva a quel punto, però sicuramente se prendono piede forze che remano contro, antisistema, eccetera, diventa oltremodo difficile contrastare la crisi. Questo è quello che ci preoccupa davvero. Adornato, mi pare che il suo appello a un governo diverso che si occupi di una serie di problemi del Paese sia rimasto inascoltato, almeno nel primo giro. È un po' di mesi, ma anche nel primo giro adesso, oggi. No, no, ma è un po' di mesi. È un po' di mesi, ma noi lo sappiamo e continuiamo non per capriccio, ma perché crediamo veramente che questa sia la soluzione al nodo che Garavaglia adesso ha toccato e che mi trova completamente d'accordo. Solo che la Lega, io credo, debba prendere atto davvero di quello che lei ha detto adesso e che altri dicono, ovviamente. Perché? Mi permetta di fare un discorso che può sembrare un po' lontano, ma è molto invece importante. Dicono che ci sia un difetto degli italiani che è quello di preoccuparsi e di mobilitarsi solo in zona Cesarini, solo all'ultimo, no? A differenza dei popoli magari più del nord che prevedono, programmano e cercano di essere pronti per il futuro. Non so se è un difetto degli italiani, sicuramente è un difetto della politica italiana. Allora, fuori dalla propaganda, che l'assetto che abbiamo chiamato berlusconismo e che ha dato una grande speranza all'Italia, poi deluso, fosse in crisi da 3-4 anni, le persone più avvertite lo sapevano già. Ma adesso che è sotto gli occhi di tutti, ma vogliamo prenderne atto oppure no? Con questo assetto che significa non solo la figura di Silvio Berlusconi, ma l'assetto bipolare, il modo in cui sono state concepite le relazioni politiche, la formazione dei governi. Se noi non superiamo questa fase, e siamo forse già in zona Cesarini, l'Italia non ce la fa, sono d'accordo con Garavaggio. Allora, i due blocchi militari non possono più funzionare in un'epoca che chiede scelte innovative, riforme dure, non funzionano perché sono portate, anche se fossero gli uomini a dirigere gli uomini più santi del mondo, sono portate allo scontro militare, alla rissa permanente, a far prevalere le ragioni della propria squadra piuttosto che le ragioni della verità. È un fatto normale, succede, non dovrebbe accadere, ma succede, aiutato da questo meccanismo. L'Italia non ne può più di questa rissa, non ne può più di questa guerra civile. Guardi, la democrazia dell'alternanza è un bene preziosissimo che nessuno di noi vuole, perché i cittadini devono scegliere i governi, ma che per forza debbono essere due poli che si costruiscano anche con vedute assolutamente diverse al loro interno, pur di raggiungere un voto in più. Questo non l'ha ordinato il medico. Allora, e questo io mi rivolgo alla Lega anche in questo, occorre che insieme al pacchetto delle riforme, che sono quelle che conosciamo, non è che ci vuole ormai Einstein per sapere di quali riforme per la crescita ha bisogno l'Italia, assieme a un pacchetto istituzionale che comprenda anche un federalismo ragionevole. Ci vuole la modifica delle norme che ci portano al voto. L'Italia ha sette meccanismi elettorali completamente diversi. Ciascuna forza oggi deve essere libera, non può essere vincolata da un premio di maggioranza che gli dice se ti muovi di un passo sei un traditore, se anche ti occupi dei problemi del paese di cui non ci stiamo occupando noi sei un traditore. Cioè, ciascuno di noi è come un soldatino di piombo. Un invito a nozio oggi per Garavaglia a parlare di legge elettorale. Noi come terzo polo siamo usciti fuori da questo meccanismo. Allora, ogni forza politica deve essere libera di dire non mi posso alleare con te anche se sei distante se l'interesse nazionale, le riforme che abbiamo sul tappeto ci vedono vicino. Non essere vincolata a stare con uno che magari non sopporta più, come molti della Lega non sopportano più il PDL e viceversa, solo perché c'è questo patto da rispettare certamente finché c'è, ma un patto militare che non ha alcuna attinenza con le necessità del paese. mi dice che ci sono esponenti del PDL che non sopportano più la Lega e viceversa. Leggo i giornali, anche se faccio fatica la mattina perché sono cattive notizie, leggo i giornali e mi informo su questo, ma poi mi pare che sia evidente il litigio sui ministeri. È stato solo l'ultimo episodio. Senta, Corsaro, a proposito di primarie, ne approfittano, non lascio cadere la suggestione che arrivava da Gentiloni. Questa mattina c'è questa intervista a Formigoni che è interessante. Formigoni parla intanto di Milano perché è stato chiamato in causa, ma lasciamo stare le vicende che riguardano CL e Milano e la partecipazione al voto. Poi dice una cosa nell'intervista alla Repubblica. Il PDL in questo momento ha ancora bisogno di Berlusconi. Quando farà un passo indietro o uno in avanti verso un altro incarico, il nostro partito deciderà il suo futuro. Quale metodo migliore se non chiedere al nostro popolo con le primarie il nome della nuova guida dei moderati? Io, se ci saranno, mi candido. Ci sono in vista, secondo lei, primarie? Perché, insomma, come dire, il presidente Berlusconi stesso ha messo in campo tanti cavalli, diciamo, per un ipotetico dopo Berlusconi, semmai ci sarà un dopo Berlusconi imminente o nel futuro. Ha parlato prima del ministro Orfano, poi ha parlato di Tremonti. Oggi Formigoni, che è un uomo che conta, che pesa, che ha un seguito nel partito, parla di primarie e annuncia, attenzione, io ci sarò. Guardi, intanto mi lasci dire che il dopo Berlusconi è stato preconizzato come imminente per l'indomani mattina, almeno una decina di volte negli ultimi 15 anni, quindi ancora siamo in attesa della prova dei fatti. E credo che Berlusconi resterà solidamente alla guida non solo del partito, ma della coalizione ancora per del tempo. Dopodiché, quando si dovrà generare per un motivo o per l'altro l'ipotesi di avvicendamento, credo che a un partito organizzato e ramificato non manchino gli strumenti per dotarsi di un percorso decisionale. Che poi sia un percorso congressuale, che sia un percorso di partecipazione degli iscritti, che siano le primarie, lo scriveremo, non mi pare un problema di grossa attualità. Formigoni da tempo è collocato sulla posizione delle primarie, non è il solo, Gianni Alemanno sostiene la stessa linea di Formigoni, altri preferiscono la celebrazione di un congresso vastamente partecipato, ma non mi pare un tema di attualità perché è il presupposto, che è ancora al di là dal verificarsi. Però non voglio sfuggire nemmeno alle considerazioni che faceva Adornato, che essendo persona intelligente ha costruito un ragionamento che dal mio punto di vista è fallace nel punto di partenza. Adornato sostanzialmente dice che siccome c'è una battuta di arresto da parte della maggioranza è il momento di cambiare le regole del gioco, è il momento di cambiare la legge elettorale, le modalità di decisione di copartecipazione tra le forze politiche. Intanto mi lasci fare una considerazione, questa coalizione, questo partito, questo Presidente del Consiglio che Adornato dice essere in caduta libera da tre o quattro anni è un partito ed è una coalizione che da quando è nato nel 2008 fino a oggi ha vinto tutte, dico tutte, le competizioni elettorali che ci sono state. Oggi registriamo una parziale battuta d'arresto in alcune aree del territorio e non in altre perché poi se volessimo estendere il discorso delle amministrative sarebbe curioso ad andare a analizzare i risultati di tutti per esempio in una regione come la Calabria che è andata al voto complessivamente perché votavano tutti i comuni capoluogo e le principali province. Quindi se poi volessimo spendere una parola sul dato della Calabria ci sarebbe da divertirsi. Ma oggi siccome c'è una parziale battuta d'arresto del centrodestra e anche del popolo della libertà in alcune realtà delle elezioni amministrative improvvisamente cambia il mondo, c'è la necessità di modificare un assetto per cui quello che non va più bene è il bipolarismo. Ora io dico sommessamente Lo dicono da sempre, l'Udc lo dice da tempo. Io dico che alla prova dei fatti nel momento in cui, nel momento in cui il centrodestra registra una battuta di arresto, torno a dire anche se Gentiloni se la prende, dall'altra parte non crescono o cresce la sinistra radicale che allo Stato nelle forze parlamentari non è rappresentata. Nel momento in cui succede questo, cioè nel momento in cui ci sono le migliori condizioni elettorali vista la fluidità del corpo elettorale. Per poter far crescere la cosiddetta alternativa del terzo polo il dato che emerge dai risultati di questa competizione amministrativa è che il terzo polo non c'è. Partiamo da Milano, l'Udc ha dimezzato i voti a Milano e il Fli è sostanzialmente e il Fli è sostanzialmente non pervenuto. Allora, in una situazione del genere sostenere che il problema stia nel bipolarismo quando, indipendentemente dal fatto che abbia vinto il candidato del centrodestra o del centrosinistra, dappertutto la somma dei candidati del polo di centrodestra e del polo di centrosinistra raccoglie il 90% dei consensi. È come dire che 9 elettori su 10 si sbagliano e ha ragione l'1 su 10 che ha votato per il terzo polo o comunque per altre forze che non si riconoscono nel centrodestra e nel centrosinistra. Mi pare anche qui aritmeticamente curioso, ma oltretutto, oltretutto e concludo, non è solo una questione aritmetica. È una questione politica e culturale. Noi riteniamo che il portato positivo, il principale portato positivo di questi 15 anni di cosiddetta seconda repubblica, sia una estrema chiarificazione e semplificazione della politica nei confronti dei cittadini con la costruzione di un bipolarismo che forse può essere perfezionato sotto il profilo del modello istituzionale, ma che è già chiaro ed è percepito dagli elettori. Allora, la posizione, se vogliamo dirla in italiano, che è adornato legittimamente e il suo partito sostengono da tempo, è quella di tornare a una situazione in cui gli elettori conferiscono il voto a un partito o all'altro, dando sostanzialmente la totalità del mandato alla segreteria di quel partito per decidere ex post che cosa fare del voto che gli è stato conferito. Noi riteniamo che un grande successo sia stato conferire agli italiani la possibilità di dire chiaramente da chi vogliono essere governati, in collaborazione con chi, per realizzare quale forma di programma di governo. Quindi riteniamo che da questo non sia corretto recedere perché sarebbe una privazione di un diritto sostanziale che abbiamo fatto acquisire gli italiani. Tutti, tutti, un attimo. Chiedo una cosa a Martini e vengo da tutti voi perché mi ci ha portato adesso a Corsaro. Però ha toccato il punto essenziale di queste ore. Si torna a parlare di legge elettorale e ne ha parlato il principale partner del PDL, la Lega, che è quella che sta pensando a cambiare magari dopo la legge elettorale. Lei ha detto bene, se ne torna a parlare ma appare un diversivo, diciamo, uno di quegli argomenti che fanno venire... Non ci crede lei quindi? No, ma non è un problema mio. È la storia che dimostra che le riforme elettorali si realizzano, si concretizzano davanti a eventi straordinari. O un referendum di portata storica, oppure il terrore di una sconfitta elettorale, cosa che accadde... Perdere Milano è di questi livelli? Beh, però, ecco, sì, non c'è una connessione diretta. Sicuramente nel 2005 fu questo terrore da parte del centro-destra che portò alla riforma elettorale, rispetto alla quale, occorre dirlo, perché questo è un argomento tabù. Insomma, l'opposizione, l'allora opposizione fece... non fece le barricate, non fece l'ostruzionismo. Sostanzialmente avallò quella riforma che adesso viene invece considerata una sorta di male assoluto. E dentro la maggioranza ovviamente c'era anche Gianfranco Fini che contribuì ad approvare quella riforma e che ora l'ha avversa. Io non credo personalmente che il tema sia all'ordine del giorno. Un'osservazione però mi sia consentita sul dibattito di questa mattina, nel senso che sia Garavaglia che Corsaro sono due personalità del centro-destra che hanno di solito un approccio non propagandistico e argomentano le polemiche. Anche questa mattina è così. Colpisce, diciamo, ma non in loro, complessivamente un atteggiamento un po' rinunciatario, psicologicamente rinunciatario rispetto alla battaglia di Milano. la si dà quasi per persa. Ma ripeto, non sono loro due questa mattina che lo hanno esplicitato. Però è nel numero delle possibilità oggettivamente. Come ci ricordava Corsaro si parte con sette punti di distacco che anche se è 0-0 ci ricordava correttamente. 0-0 ma un brutto primo tempo. È certo che è possibile, è anche probabile. Noi non possiamo dar conto dei sondaggi che pur conosciamo. Eppure vale la pena però cercare di capire, al di là degli autogol clamorosi che il centro-destra ha prodotto anche nel secondo turno, capire quel filo di idea che c'è in questa campagna che prova a riportare al voto quegli elettori periferici che magari non vedono omnibus, ma insomma che invece rispondono a pulsioni elementari, gli zingari, i comunisti. E la scommessa è quella. Riuscirà? Ma diciamo che di solito che Milano è una città poco retorica e piagnona. Da questo punto di vista può essere simpatico ricordare un grande eroe del risorgimento milanese, Amatore Scesa, che portato al patibolo dagli austriaci richiesto di confessare le colpe dei suoi amici, andò tranquillamente al patibolo senza frasi roboanti ma dicendo soltanto tiremmi in nanzo. Prego Gentiloni, se questo era il tema legge elettorale, siamo arrivati a uno degli snodi di queste ore o almeno apparenti. Ma io sono abbastanza d'accordo con Fabio Martini, nel senso che naturalmente noi siamo disponibilissimi, anzi interessatissimi all'idea che possa esserci una modifica della legge elettorale, anzi che possa esserci un governo, qualcuno l'ha chiamato di tregua, qualcuno delle regole, qualcuno di decantazione. La grande alleanza democratica, la chiama così stamattina D'Alema nell'intervista? Di decantazione, la grande alleanza democratica, la diciamo in omaggio alla rete che ci ospita, era soprannominata GAD qualche tempo fa, quindi non è nuova l'etichetta. Perché sarebbe utile per il Paese un governo che per qualche mese cambiasse la legge elettorale, affrontasse alcune emergenze e poi portasse il Paese al voto, ovviamente non guidato dall'onorevole Berlusconi. Ma detto questo, io sono abbastanza scettico, quindi condivido lo scetticismo di Martini. Noi siamo disponibili, pensiamo che questa legge elettorale, al di là dei discorsi di sistema politico, alleanze, bipolarismo, eccetera, abbia poi al proprio interno un elemento che si è dimostrato proprio corruttivo del sistema, cioè l'elemento della selezione della classe politica senza coinvolgere gli elettori, né attraverso i collegi né attraverso le preferenze. Quindi quel meccanismo va sicuramente modificato. Detto questo, io voglio dire, non accuserei il bipolarismo degli estremismi che ci sono nelle attuali coalizioni. Il problema italiano in questo momento, secondo me, è che in una delle due coalizioni, cioè il centrodestra, le forme estremistiche sono sul ponte di comando. Questo ci ha dimostrato la campagna elettorale di questi tre mesi, e cioè che addirittura negli ultimi giorni abbiamo assistito a un ripetuto assalto alle posizioni del cardinale di Milano, Tettamanzi, accusato dalla stampa di proprietà della famiglia Berlusconi, dal giornale, delle cose più incredibili. Quindi questo è l'estremismo alla guida delle coalizioni, è colpa del bipolarismo? Ecco, io capisco la posizione del terzo polo, ma penso che il primo obiettivo dovrebbe essere quello di assicurare alle due grandi coalizioni una guida ragionevole e non, come purtroppo è avvenuto nel centrodestra in questi ultimi due anni, una guida assolutamente estremistica. La fermo o la pubblicità? Porterà degli incerti a votare, come si chiedeva Martini, questa guida estremistica? Io penso che in una grande città come Milano questa possibilità sia molto marginale, che promettendo regali all'Achille Lauro o minacciando comunisti, zingari, eccetera, si porti molta gente in più a votare. Penso che sia un'illusione. Pubblicità e poi torniamo con Adornato. Allora, torno con Adornato e gli leggo qualche riga dell'intervista di D'Alema oggi all'Unità, che saranno musica per le orecchie. Di certo non si può andare avanti così. O andiamo a elezioni, che sarebbero la scelta più limpida, oppure serve una soluzione utile per il Paese, con un governo che si occupi di cambiare la legge elettorale e che poi porti al voto. Va bene, no? Sì, si ripete da tempo. Mi permetta di arrivarci alla fine, dopo aver risposto ad alcune cose. Prego. Perché deve essere un dialogo, credo sia questo nel vostro spirito, e a me piace dialogare. Sul bipolarismo, io non ho niente contro il bipolarismo, anzi, diciamo che in astratto è un sistema normale. Il problema è che quello italiano non funziona, è stato costruito male. A me piace l'idea della poltrona, ma se la poltrona è scassata, bisogna che la sostituisco. Perché lo scopo di chi fa politica non è quello di scettare sui massimi sistemi, ma di vedere il modo di come servire meglio il Paese, di come essere più in contatto con gli italiani. Allora, sarà mica una coincidenza che Prodi dopo due anni cade, e che Berlusconi, nonostante molti più parlamentari di Prodi, dopo due anni entri in crisi. Ci sarà un problema, no? Adesso possiamo arrampicarci sugli specchi, ma è solo questo che noi diciamo. Del resto a noi il sistema elettorale interessa, perché ovviamente, come ci insegnano tutti, è la chiave della funzionalità del sistema. Però noi abbiamo una posizione molto chiara. Occorre un governo di responsabilità nazionale, occorre che ci mettiamo insieme per guardare i problemi dell'Italia, e non per litigare con l'avversario, o demonizzarlo, o raccontare storie reciproche che avviliscono. Occorre una fase di passaggio. Quindi, quale che sia il sistema elettorale, e quale che sia il bipolarismo, o tripolarismo, o quadripolarismo, noi ci importa questo perché non siamo sciocchi, ma noi diciamo che ci dobbiamo mettere insieme per governare questo paese. Seconda cosa, io mi passo anche a rendere, perché non è che dobbiamo fare polemica alla meticolosa contabilità di Corsaro. Del resto, certe cose, quelle che ho detto prima, io non le ho dette dopo Milano. Sia all'Unione di Centro, ma anche io personalmente le ho dette a Berlusconi in faccia, quando dopo la famosa storia del predellino gli dissi, guarda, qui comincia l'inizio della fine della tua leadership politica. Quindi, l'ho messo sull'avviso, mi sembra che le cose siano andate poi come purtroppo, perché non c'è da gioire se chi governa non riesce a governare, però purtroppo le cose sono andate come gli avevamo detto noi. Comunque, mi posso arrendere, avete vinto, dal 2008 che vincete, veramente, dal 1994 che vincete, però io credo che anche voi dobbiate, lo dico con assoluta serenità, non è polemica, anche voi dobbiate cercare di entrare in sintonia con gli italiani, anche con quelli che vi votano e che magari continuano a votarvi perché non vogliono votare a sinistra e che cominciano a votare per il terzo polo. Che la rivoluzione liberale non ci sia stata. Non è che questo potete occultarlo con un risultato, con una contabilità elettorale che sia buona o cattiva. Che le grandi riforme promesse e giustamente promesse dal centrodestra non siano andate in porto. E questo non è che potete mascherarvi dietro anche un successo elettorale. Cioè, gli italiani le vedono queste cose. E la fine di un ciclo politico si misura, non arriverà un giorno anche la contabilità elettorale che a Milano sembra per la prima volta essere arrivata in negativo, ma arriverà perché un ciclo politico si consuma se non compie la missione, il destino per il quale, per la quale ha chiesto i voti agli elettori. C'è una grande porzione di elettori del PDL. Si usa la categoria moderati. Non so, sono convenzioni. Anche perché sono i moderati che fanno le rivoluzioni. Le rivoluzioni dei rivoluzionari finiscono nel sangue, quelle dei moderati finiscono con riforme. Ma c'è appunto una gran parte di moderati che capisce che non è più questo. Non solo lo stile, lo schema, perché Berlusconi è un estremista. Tecnicamente è un estremista perché è un rivoluzionario senza rivoluzioni. È uno che ha modi rivoluzionari ma poi non si vede la rivoluzione che ha fatto per forza finisce per diventare un estremista. La Lega sembra persino più moderata che è stata da tutti accusata negli anni di essere quello più estremista. Ma c'è una gran mare di elettori che guardano l'Italia e dicono ma vogliamo occuparci di paure ancestrali, l'arrivo dell'Islam. Dopo tanti anni di governo di centro-destra siamo al punto che con un voto arriva l'Islam. Allora ci sarebbe un'autocritica da fare notevolissima. Ma siamo seri, guardiamo i problemi del Paese. Io vorrei uscire dalle polemiche politiche. Mi vergogno anche alle volte, lo dico con sincerità, di vivere dentro questo clima come classe politica perché noi così non facciamo il nostro dovere. Noi così diamo solo luogo a una guerra dei bottoni, a una guerra civile, per fortuna solo verbale e ideologica, ma cavalchiamo con irresponsabilità una situazione che invece dovrebbe vederci, con le distensioni, non è che io penso che scompagnino le distensioni, ma ha lo stesso tavolo come questo, ragionare su come insieme si può portare il Paese. Finisco con D'Alema. Occorre un governo di responsabilità nazionale che lo si può fare anche dopo, lo si può fare martedì. Perché è vero quello che dice Corsaro che non è uscita una scelta di alternativa politica, ma è anche vero che non è che le maggioranze stanno lì per scaldare la sedia o girare i pollici. Se una maggioranza capisce che è il momento di una svolta, ma non è che siccome o ha vinto le elezioni o non c'è alternativa, questa svolta non viene. Il Paese ha bisogno di una svolta. Noi tra l'altro avevamo chiesto a Berlusconi di farsi protagonista di questo. Ora visibilmente la sua leadership non permette più che sia lui a guidarla, ma otto mesi fa quando l'abbiamo proposto forse era ancora il momento. Ecco perché dicevo la zona Cesarini. La legge elettorale, sì, cambiamola perché occorre, ma gli italiani non è che stanno, quelli della Fincantieri o i ragazzi che non hanno lavoro, non è che stanno aspettando la legge elettorale. Voglio sentire una cosa da Caravaglia, perché ieri è arrivata una frase che ha un po' sparigliato, anche se è rimasta poi sullo sfondo di tante altre polemiche, quella di Bossi sulla privatizzazione dell'acqua. Ha detto che ci sono dei referendum interessanti. Si muove anche qualcosa in quella direzione. Ieri è passato il decreto omnibus che potrebbe, perché deve decidere la Corte di Cassazione, bloccare il referendum sul nucleare. Questo staremo a vedere. Però Bossi ieri ha riaperto, come dire, un qualche fronte di tensione o di disponibilità a un voto diverso al referendum. È questa la possibilità? Allora, va spiegato meglio, anche perché la posizione della Lega sull'acqua è sempre quella. Noi siamo stati accusati, mi ricordo abbastanza bene, però logicamente mica tutti si ricordano cos'è successo due, tre, quattro anni fa. Ma la Lega ha sempre avuto una posizione molto prudente sulla privatizzazione, liberalizzazione totale dell'acqua. Tant'è che quando è stato approvato il 23 bis, comunque la legge che oggi regola i servizi pubblici locali, noi siamo stati accusati in maniera feroce dall'Udc e da Fini, per esempio, giusto per fare un esempio, perché eravamo contro la liberalizzazione. Perché vi eravate smarcati. Perché avevamo messo, no, nella legge abbiamo messo delle tutele, per cui già oggi l'acqua può essere gestita dal pubblico in taluna realtà, in particolare in montagna, eccetera, dove il mercato non andrà mai, no? Per cui, siccome quello dell'acqua è un mercato povero, bisogna sì ragionare sull'intervento dei privati, però con molto buon senso, perché purtroppo in tante realtà il mercato fallisce e non funziona. Quindi la posizione nostra sull'acqua è storicamente quella. Dopodiché si può mettere l'agenzia, si può ragionare, dopodiché il referendum però purtroppo ha avuto negli anni una distorsione nell'utilizzo. Per cui da semplice abrogativo diventa anche modificativo. Non entrare tanto nel merito dell'acqua. Il referendum viene considerata, come dire, un'eventuale partita di rivincita, se poteva essere rivincita, 12-13 giugno rispetto al voto amministrativo. Se viene meno il referendum sul nucleare, naturalmente viene meno uno dei volani di partecipazione, ma c'è quello sul legittimo impedimento che si vota. E certo, la posizione della Lega che è possibilista sul voto su altri referendum che non sono né il legittimo impedimento né il nucleare, fa diventare più frizzante, o il mio è un retropensiero, non credo. Credo che sia una delle considerazioni politiche che si possono fare. Siccome da lunedì, dopo il ballottaggio, mi scusi, si parlerà di... Tutti liberi, si possono dire tutte le cose. No, si parlerà del referendum. Mi sembra legittimo che Bossi e la Lega intervenga su questo tema, perché altrimenti sembra che noi vogliamo privatizzare l'acqua a tu cura. Attenzione. È un tema molto delicato e iniziamo a parlarne, anche perché è giusto. Non è che manca poi... Con qualche rimprovero al Ministro Fitto che è arrivato da Bossi. È certo, andava gestita prima sta cosa. Corsaro, questo è naturalmente sullo sfondo il referendum, ma ieri sul decreto Omnibus sono riesplose le polemiche per la vicenda nucleare, perché l'opposizione, soprattutto il PD, ha insistito, c'è uno scippo, dicono, un potenziale, perché ancora non sappiamo che cosa deciderà la Cassazione. Siccome è un altro dei temi politici, c'è il legittimo impedimento nel pacchetto dei quattro referendum. Guardi, anche su questo, la ringrazio per la domanda perché offre la possibilità di dare un po' di chiarezza. È stato detto che siccome il governo ha deciso di fare una radicale revisione della propria impostazione sull'acquisizione della politica energetica nucleare, alla luce di un episodio che ha determinato la stessa valutazione di prudenza, di revisione, di approfondimento scientifico non in Italia ma in tutto il mondo, è stato l'episodio del Giappone, si è detto volete togliere di mezzo il referendum. Il referendum è un istituto Berlusconi, è un incontro internazionale, non è un sarkosino. Nella cui formazione è previsto che i cittadini chiedano l'abrogazione di una norma in ragione del fatto che non la condividono e che contestualmente la politica e i governi coinvolti non intervengono alla modifica di quella norma per rispetto alla quale almeno 500.000 cittadini firmano una richiesta di abrogazione. Ora, il fatto che nell'emore tra la presentazione della richiesta di referendum e la celebrazione dello stesso un governo che prende atto di una vicenda che muove coscienze private un'emotività collettiva una oggettiva valutazione di approfondimento scientifico decida di cambiare proprio quella norma esattamente nel senso in cui più di 500.000 cittadini lo avevano invitato a farlo tramite un referendum non mi pare proprio uno scippo nei confronti di alcuno semmai è una presa d'atto della circostanza che l'attualizzazione delle circostanze porta anche il governo nelle posizioni di quei cittadini che avevano chiesto al governo di rivedere le cose quindi non solo non è uno scippo è semmai una accelerazione nell'acquisizione di un dato che è stato sottoposto all'attenzione da parte di quelli che hanno sottoscritto quel referendum detto questo però se mi permette visto che come diceva giustamente è adornato siamo anche in una forma di dibattito volevo rispondere ad una sollecitazione di Martini perché per non dare una errata sensazione noi non diamo affatto per scontato che la battaglia di Milano sia persa noi abbiamo preso atto di nostri errori che hanno comportato il venir meno di una parte consistente del nostro corpo elettorale oggi noi siamo impegnati profondamente in questa campagna elettorale nella convinzione che parlando dell'amministrazione ai cittadini nostri nostri elettori o tendenzialmente nostri elettori che non sono tornati a votare si torni a comunicare il tanto di buono che abbiamo fatto noi siamo convinti per esempio che ci siano degli elementi differenziali di cui non abbiamo parlato che devono essere messi a disposizione del patrimonio conoscitivo dei nostri cittadini la nostra è una città Milano è una città che in questi anni ha raggiunto le migliori soglie in termini di sicurezza percepita e acquisita lo si è fatto con il governo del territorio lo si è fatto inserendo le pattuglie delle forze armate insieme alle forze dell'ordine lo si è fatto con politiche di collaborazione della polizia locale lo si è fatto conseguendo dei risultati importanti per cui il 48% dei furti delle rapine delle aggressioni a Milano è diminuito lo si è fatto conseguendo il risultato di riacquisire alla quotidianità dei milanesi delle zone che prima erano delle zone non transitabili parlo anche di zone centrali la stazione centrale di Milano in cui una donna dalle 4 del pomeriggio non poteva attraversare sono tre anni che non succede più niente di male dall'altra parte vediamo che sul tema della sicurezza il programma del nostro candidato alternativo dice poco e niente Pisa Pia faccio io il nome perché se no Pisa Pia dice che vuole togliere alla polizia locale i compiti di sicurezza che noi gli abbiamo attribuito facendo tornare la polizia locale è uno strumento che si occupa solo di dare le macchine però non mi entri troppo nello specifico perché se mi dice che non parlo di Milano qualche cosa va detto no 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 lei ha ragione Pisa Pia dice che vuole dare ai nomadi la possibilità di autocostruire al di là che non si sa che cosa sia l'autocostruzione affidata ai nomadi ma insomma il figlio della monastica l'ha praticata ma insomma credo che da questo punto di vista ci siano molti aspetti sui quali sia opportuno l'ultimo me ne lascio citare solo uno me ne lascio citare solo uno la gestione economica della città Milano è l'unica l'unica città in Italia in cui l'IRP l'addizionale IRPEF è pari a zero è l'unica città in Italia in cui da cinque anni a questa parte non si è aumentato di un centesimo la tariffa dei servizi non propagandi troppo sennò vanno tutti a Milano non è propaganda i cittadini milanesi sanno che sto parlando di dati reali il programma di Pisapia parla delle introduzioni di una tassa per i city users per esempio che significa che ogni milanese che fa qualche cosa deve pagare una tassa sono alternative di cui noi colpevolmente non abbiamo parlato nel primo turno e oggi siamo impegnati a dare conoscenza di questo Gentiloni prego mi pare che il referendum sia anche un tema stimolante perché ora Corsaro ci ha ripetuto qual è la posizione della maggioranza del governo si poi vorrei replicare anche su Milano rapidamente perché poi vorrei affrontare ancora altro il sindaco Alemanno sull'addizionale IRPEF si potrebbe attaccare Alemanno anche sulla moschea vari argomenti la moschea a Roma c'è no per quello dico siccome so che l'onorevole Corsaro è legato all'Alemanno quindi quando si parla io siccome sono romano saprei più discutere nei dettagli di quello che succede a Roma e se parlassimo di attizionali IRPEF di Moschè ne avremmo da dire su Roma ma detto questo io spero che si possa votare sul referendum anche sul nucleare la Cassazione deciderà la prossima settimana credo che ci siano molti elementi che spingono per la possibilità ma ovvio che la decisione la prenderà la Cassazione che si arrivi a un voto ricordo ad esempio che nel decreto che è stato approvato innanzitutto che nell'iter parlamentare tutti i nostri emendamenti che dicevano noi facciamo una scelta almeno per alcuni anni e almeno finché non ci sono novità sul tema della sicurezza delle centrali definitiva sul nucleare sono stati respinti dalla maggioranza in questo confermando quello che il Presidente del Consiglio ha detto non in un'indiscrezione di stampa ma in una conferenza stampa con accanto il Presidente Sarkozy ha detto che saremmo stati degli irresponsabili a far fare in questo momento a sottoporre in questo momento a un referendum la decisione sul nucleare il discorso va ripreso dopo quindi lo scippo se così lo vogliamo chiamare è dichiarato io mi auguro invece che per questo che al referendum si possa andare penso che gli italiani non perché suggestionati dalle paure ma perché realisticamente prendendo atto dei rischi di questa tecnologia in relazione ai suoi costi l'Italia ha abbandonato il nucleare da alcuni decenni oggi inseguire questa tecnologia con i rischi e con i costi che comporta sarebbe un errore noi lo abbiamo detto prima di Fukushima e sarebbe molto importante secondo me per i cittadini italiani il referendum molti non lo sanno ma è praticamente tra 15 giorni quindi sarebbe molto importante che si potesse votare oltre che sull'acqua e sul legittimo impedimento anche sul nucleare perché queste sono scelte che riguardano il futuro dell'economia ma anche il futuro della sicurezza dei cittadini per quello che riguarda la situazione di Milano ma io io dico questo non so se da parte del centro-destra ci sia o non ci sia rassegnazione quando si fa una battaglia elettorale è giusto dire fino all'ultimo che si concludono gli incontri elettorali dicendo fino all'ultimo bisogna convincere i cittadini eccetera eccetera quello che registro è che a un certo punto dopo il ballottaggio ho sentito dire da molti esponenti del centro-destra vabbè abbiamo sbagliato a fare una campagna elettorale troppo diciamo così aggressiva e troppo sui temi nazionali dopodiché che cosa ho visto nei giorni seguenti che sui temi nazionali è continuata addirittura siamo arrivati alle promesse dei ministeri e sul terreno locale l'aggressività ha cominciato a unirsi a delle promesse che io ritengo abbastanza irragionevoli voglio citare solo un punto la questione una delle questioni fondamentali in una grande città è la questione traffico inquinamento in tutte le grandi metropoli ma può essere che una forza e una coalizione di governo si possa presentare dopo cinque anni annunciando fondamentalmente due decisioni primo una moratoria sulle multe e secondo di abbandonare la scelta strategica fondamentale che ha fatto nei cinque anni precedenti l'ecopass l'ecopass quindi lì abbiamo due candidati un candidato Pisapia che dice la ricetta delle pedonalizzazioni sono importanti in molte aree della città perché possono migliorare la qualità della città non è un'invenzione geniale perché è quello che fanno gran parte delle città europee e anche italiane però è la linea di Pisapia dall'altra parte abbiamo un sindaco che per cinque anni ha scelto una strada l'ha difesa in tutta la campagna elettorale e tra il primo turno e il ballottaggio ha detto scusate mi sono sbagliato cancelliamo l'ecopass se questa è una correzione di rotta che dà ai milanesi una garanzia di serietà io credo che non siamo in questa condizione che cosa ha funzionato e concludo a mio parere del candidato Pisapia che cosa ha convinto gran parte anche dei moderati milanesi dal moderato Piero Bassetti primo presidente della regione Lombardia all'ex sindaco Tognoli a tante persone di questo livello il fatto che Pisapia è innanzitutto un moderato personalmente cioè un avvocato una persona mite e la seconda cosa che ha convinto io credo è che lui in tutti questi mesi con coerenza e facendo incontri in tutta la città ha sostenuto le sue idee che ovviamente non hanno niente a che fare con i discorsi che sono stati fatti Zingaropoli Moschee prima dicevo scherzando noi a Roma ebbene sì lo confesso abbiamo una grande moschea fatta da un importante architetto non è lontana da qui penso che per la sicurezza per il rispetto dei diritti costituzionali delle religioni non concordatarie per tante altre cose questa grande moschea sia molto meglio di quello che ha vissuto Milano negli anni della Moratti e del centrodestra in questi anni e cioè 5, 6, 7 realtà di moschee più o meno clandestine tutti abbiamo sentito parlare dei problemi di Viale Jenner che hanno quelle sì creato problemi al traffico e addirittura in qualche caso alla sicurezza allora fare per esempio di questa discussione sulla moschea una crociata non siamo in un paesino di montagna siamo nella grande metropoli Milano che tranquillamente può come ha detto ieri anche la conferenza episcopale italiana avere una ha detto l'ha detto sì nel rispetto delle regole nel rispetto delle regole va benissimo anche per la CEI una cosa assolutamente normale e che migliora la sicurezza non la rende più complicata Martini qualche riga le cito dal c'è stata ieri l'anticipazione di un'intervista a Vanity Fair del direttore del giornale Sallusti lui un po' corregge dice piuttosto alterato invece il contenuto di un'intervista che mi ha fatto Vanity Fair altro giornale caro alla sinistra chic non mi sembra che ci possano essere dubbi su cosa penso sul caso Milano per Letizia Moratti è una sfida difficile ma può e deve farcela giusto che dica questo e poi più avanti sono convinto che tenere alti toni è stata una legittima difesa che ha aiutato il sindaco uscente a stare in corsa le liti dentro il PDL certo non hanno aiutato ma prendersela con i cosiddetti falchi tra i quali hanno arruolato anche noi del giornale è ingiusto la linea l'ha data Berlusconi uno che di solito la zecca insomma che ci siano due scuole di pensiero nel PDL nel PDL milanese è cosa nota il direttore nei giorni scorsi non è stato arruolato diciamo è stato una vanguardia ha spinto in modo plateale evidente è legittimamente un giornale può ha attaccato la curia milanese e soprattutto ha detto una cosa che in campagna elettorale non bisognerebbe dire mai a secondare gli argomenti degli avversari quando ha sostenuto che appunto la Moratti non sarebbe stata il candidato migliore queste sono cose che ovviamente se si pensano si dovrebbero dire dopo vorrei vista la presenza di Corsaro provare a vedere se si può dare una notizia a me risulta però non ho trovato se è prestigioso Martini quando parte così e Corsaro l'avvesto non ho trovato traccia sui giornali questa mattina che è stato formato ieri sera un accordo tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione di Milano per bloccare le licenze dei taxi fino al 2015 le risulta ovviamente nulla di criminogeno o di criminoso ma le risulta questo tipo di accordo sì mi risulta ecco no no va bene questa è una notizia comunque che farà contenti quelli che già la licenza ce l'hanno naturalmente questo poi giudicano i cittadini milanesi ovviamente se questo è utile a loro più ai tassisti o comunque sia una decisione equa sicuramente è stata sottoscritta anche dalla CGL prego prego stava dicendo un'altra cosa Martini no sul referendum vedo che c'è un eccesso di demagogia di retorica stupisce insomma che il partito democratico anziché o l'opposizione nel suo complesso anziché esultare per la cancellazione della prospettiva nucleare in qualche modo il partito democratico non l'opposizione nel suo complesso l'Italia dei valori ha tornato orgogliosamente a favore no orgogliosamente esagerato noi pensiamo che che un paese moderno debba contare su tante non c'è mica niente di male sì sì no ma non orgogliosamente sono scelte che attengono all'indipendenza tra l'altro anche economica politica del paese debba contare su tutto quello su tutta l'orchestra le energie rinnovabili le nuove sperimentazioni ma anche il nucleare ma anche sul nucleare vede purtroppo l'Italia che non dispiace neanche a Garavaglia credo vero? non credo no ma è un paese strano l'Italia noi avremmo dovuto essere nella situazione della Germania cioè aver fatto già le centrali c'è l'incidente di Fukushima e avremmo dovuto fare i ragionamenti che Corsaro poco fa richiamava invece noi discutiamo di centrali che non ci sono se faremo non faremo con Corsaro e l'Italia è evidente perché Gentiloni ha ragione su quello ma appunto se l'Italia è il nostro paese right or wrong my country giusto o sbagliate il mio paese pubblicità torniamo fra un istante con Omnibus allora Martini riparto da lei perché intanto abbiamo solo dieci minuti quindi dobbiamo essere rapidissimi ma perché ieri sono arrivati questi numeri dalla Corte dei Conti e sulle manovre che in realtà sono un'ipoteca sui nostri prossimi anni cioè arriverà la manovra correttiva 40 miliardi per tre anni quella che il governo dovrà fare e poi ci ricordava la Corte dei Conti se dovessero mantenere i parametri europei servirà ogni anno una manovra da 46 miliardi di euro che naturalmente in valuta di oggi assomigliano a quella la famosa manovra lacrime e sangue e sangue di 90 mila miliardi di Amato questa è una un'ipoteca enorme sul nostro futuro politico? è anche un'ipoteca sulla preannunciata esternazione questa sera del Presidente del Consiglio se ci sarà se ci sarà nel decennale nel decennale del contratto con gli italiani che fu stipulato l'8 maggio del 2001 da Silvio Berlusconi alla presenza del notaio Vespa che speriamo stasera glielo ricorderà una sola osservazione sulle cifre che lei citava tutte molto importanti in queste ore appunto rimbalzano le voci in iscrizione su una possibile manovra di quella entità il Ministro dell'Economia anziché smentirle come sarebbe pure possibile non è rimasto in silenzio è intervenuto ripetutamente in polemica anche argomentata con l'Istat e con la Corte dei Conti ma quella cifra non l'ha smentita l'aveva citata lei poco fa quei numeri adornato sono come dire il grande problema con il quale abbiamo a che fare torna il suo governo ma si vedrà che appunto in zona Cesarini spero almeno in zona Cesarini l'Italia si accorgerà di questo tra l'altro c'è un fatto di convenienza cioè i dati economici sono anche funzionali ai tempi della politica se tu affronti una situazione sette anni prima o sei anni prima o anche solo quattro anni prima forse i tuoi cittadini pagano anche relativamente un po' di meno perché la politica ha alzato le antenne lungimirante è stata un po' lungimirante più avanti andiamo nell'accorgerci delle necessità di una svolta radicale in questo paese e più sarà pesante anche il tributo economico che bisognerà dare chiudo dicendo che però Tremonti al quale va la nostra stima per aver difeso i conti pubblici non può lo ripeto continuare nella storiella di vedere come contraddittori la difesa dei conti e le misure per la crescita perché se si tratta di difendere i conti non c'è bisogno del genio del professor Tremonti basta un bambino e chiude la cassa il problema della classe politica oggi difficile difficilissimo è come riuscire a mantenere i conti a posto e nel tempo stesso avere misure per la crescita credo che siamo pagati per questo per trovare la chiave di questa equazione che è molto difficile ma senza questa equazione i dati della corte dei conti oggi dicono 46 domani diranno 55 perché il paese continua a essere depresso e continua a non crescere possibile mai che tutti coloro che dicono questa cosa dalla Banca Italia alla Confindustria alle forze politiche vogliono che cada il governo vogliono fare un complotto mi pare difficile bisogna che si levino il prosciutto come si dice davanti agli occhi guardino in faccia la realtà dicano la verità e anche rinunciando a posizione di potere chi deve faccia un passo indietro e tutti insieme facciamo un passo avanti in un governo di responsabilità nazionale questo è l'obiettivo di questa fase che riscriva anche le regole e poi ricominciamo se Dio vuole in una serenità diversa da quella di oggi ma senza questo trauma questa rottura questo scandalo di stare insieme invece che litigarsi ogni giorno senza questo scandalo l'Italia non si riprenderà Caravaglia lei è uno degli uomini dei numeri della Lega dell'economia quindi è un'ipoteca pesantissima quella che abbiamo davanti per mantenere i nostri parametri corretti assolutamente ma non è minimamente una sorpresa infatti noi ci stupiamo dei titoli dei giornali perché nella finanziaria adesso ho cambiato nome che abbiamo provato poche settimane fa c'era espressamente scritto la manovra per i primi due anni è questa qui e vale per il 2010 2011 non cambia niente a giugno si va a decidere la manovra d'accordo con l'Europa per arrivare al pareggio il bilancio del 2014 per i prossimi due anni e l'entità della manovra è questa qui la Corte dei Conti dice 46 noi diciamo 35-40 ma questo è assolutamente scontato e già concordato ma ogni anno poi è una manovra che dovremmo ripetere praticamente tutti gli anni per mantenere questo è il punto chiave per mantenere i nostri conti questo è il punto chiave noi dobbiamo arrivare al pareggio di bilancio per inciso l'abbiamo fatto una volta sola nel 1876 con il mitico Marco Minghetti quindi non è una cosa da poco arrivare al pareggio di bilancio noi dobbiamo ridurre strutturalmente gli 800 miliardi di uscite e alzare strutturalmente i 730 di entrate che vuol dire tagliare gli sprechi con i costi standard e combattere l'evasione fiscale questa manovra strutturale la facciamo con il federalismo fiscale che ha i suoi tempi perché logicamente l'abbiamo provato adesso ma i tempi di attuazione sono logicamente graduali perché mica si possono licenziare 300 mila persone al pubblico impiego devi aspettare che vanno in pensione e non le riassumi giusto per fare un esempio nel frattempo bisogna intervenire intervenire sulla crescita e qui ha ragione adornato la vera sfida che ci trova davanti è a trovare il modo per crescere senza fare debito perché non possiamo più fare debito e qui c'è tanto da lavorare semplificazioni abbiamo 40 sistemi fiscali lei dice la sfida si può vincere la sfida si deve vincere se no si è rovinati prego Gentiloni ma insomma che la situazione sia molto 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 delicata credo che non c'è bisogno che ci venga ricordato dovrebbe essere evidente anche se spesso invece abbiamo sentito frasi rassicuranti che negavano la crisi eccetera la realtà è piuttosto semplice da analizzare e molto complicata da risolvere l'analisi dice che purtroppo negli ultimi dieci anni l'Italia è cresciuta molto meno dei paesi con cui siamo in concorrenza e quando ci sono state crisi come nel 2008 la crisi l'abbiamo sofferta molto di più quindi quando c'è crisi noi siamo più in crisi quando c'è un po' di ripresa noi siamo molto meno in ripresa di quegli altri oggi sono paesi la Germania l'Olanda che hanno tassi di crescita da brick la Spagna però è rovinata il 4% la Spagna invece è rovinata eccetera noi non possiamo andare avanti io credo pur riconoscendo tutti quanti che quella che chiamiamo tenuta dei conti sia un fatto fondamentale non possiamo andare avanti con questa impostazione perché non possiamo andare avanti non solo perché non si risolve quel tanto di sviluppo che ci vuole assieme alla tenuta dei conti ma perché anche sotto il profilo dei conti il discorso della tenuta non è più sufficiente cioè se chi governa non si pone l'obiettivo di dare un contributo significativo all'abbattimento del debito pubblico e di ricette ce ne sono in discussione un'enormità che riguardano il patrimonio l'utilizzo del patrimonio pubblico adesso ne discussiamo in un'altra trasmissione non basta dire teniamo i conti in ordine perché a furia di dire soltanto teniamo i conti in ordine questa impostazione rischia di mettere in crisi anche l'ordine dei conti cioè ci possiamo trovare a un punto in cui se non si abbatte il debito pubblico e non si riavvia una dinamica di crescita anche questo mantra dei conti in ordine non regge più e il governo non ha avuto proposte il governo continua a dire tremonti perché poi altre parti del governo vorrebbero anche mettere in discussione quel diciamo così fragile argine dice vabbè ma io tengo i conti in ordine non basta più bisogna abbattimento del debito pubblico e rilancio dello sviluppo una maggioranza che vive alla giornata questa operazione non la può fare di questo io penso che dovremmo essere tutti consapevoli che questa operazione difficilissima di abbattimento del debito e di rilancio dello sviluppo possa essere fatta da una maggioranza che campa alla giornata io credo che sia assolutamente impossibile per questo Milano o non Milano ci vorrà sicuramente un cambio dopo queste dopo queste o corsaro dire solo una cosa con vendola non la fai perché se governiamo tutti come la Puglia si rovinano io credo che i dati i dati pubblicati ieri dalla Corte dei Conti non facciano altro che confermare e c'è anche nelle parole oneste del collega Adornato la correttezza dell'impostazione sin qui tenuta da questo governo per il tramite delle decisioni del Ministro tra i molti immaginiamo che cosa sarebbe stato se noi in questi anni di parte virulenta della crisi non avessimo tenuto stretti i cordoni della borsa e non avessimo impedito l'esplosione del deficit facendo però delle azioni di contenimento che vanno ricordate hanno fortemente limitato i danni perché noi abbiamo messo in disposizione degli interventi che hanno in termini di ammortizzatori sociali impedito azioni di macelleria sociale che sono state acquisite altrove ci sono paesi in Europa che hanno lasciato a casa 400-500 mila dipendenti della funzione pubblica cosa che in Italia non è avvenuta per nessuno gli ammortizzatori sociali hanno garantito una dimensione di ammortizzatori sociali che hanno consentito ai cittadini di non perdere il contatto con il mondo del lavoro e con un minimo di economicità che potesse consentire loro di tirare avanti nei periodi più difficili oggi noi siamo di fronte lo diceva Garavaglia e Concordo a una scommessa di modifica strutturale dell'assetto dei conti pubblici noi non possiamo pensare di finanziare la crescita con un ulteriore deficit di bilancio perché abbiamo già l'indebitamento questo non si può fare questo non si può fare abbiamo anche un carico di oneri finanziari che ci mette in condizioni di partenza limitate rispetto ai nostri competitori dobbiamo ulteriormente razionalizzare l'uso della spesa pubblica l'applicazione del federalismo con la responsabilizzazione degli amministratori che hanno la capacità di spesa e hanno la responsabilità oggi con il federalismo di mettere la faccia di fronte ai cittadini elettori di quello che è il loro utilizzo delle risorse pubbliche deve comportare una forte diminuzione una forte contrazione dell'impegno di spesa pubblica grazie a Fabio Martini grazie al senatore Caravaglia a Gentiloni a Corsaro ad Adornato il dibattito torna domani adesso c'è coffee c'è coffee drag grazie arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.